e quindi andiamo al tema delle banche centrali cosa fanno le banche centrali le banche centrali attraverso una un'azione di politica monetaria come viene chiamata che poi vi descriverò in termini teorici come se così vogliamo chiarare cosa fa la banca centrale la banca centrale prende la curva di domanda e la sposta verso destra molto semplicemente creando le condizioni come si dice stampando moneta cioè cercando di spostare verso destra la curva di domanda come consegnando denaro a chi fa domanda possono essere le imprese le banche che poi finanziano le imprese rendendo più agevole per tutti avere a disposizione denaro per poter fare gli acquisti quindi l'offerta rimane inalterata perché è quella di prima nel breve periodo l'offerta non cambia le imprese sono quelle la produttiva la produzione è quella ma la curva si sposta verso destra e genero pil attraverso la crescita attraverso una politica monetaria come si dice espansiva qual è il limite della politica monetaria l'inflazione vedete che quando si sposta verso destra la curva di di domanda si aumenta la quantità ma anche i prezzi e sapete quanto le banche centrali tendano a guardare l'andamento dei prezzi perché il prezzo è l'inflazione è brutta è una cosa brutta quando supera un certo livello l'inflazione normale è 2 3 per cento oltre 3 per cento comincia a essere un fenomeno redistributivo fastidioso che genera incertezza quindi non si gradisce l'inflazione in generale inflazione è male diciamo così quindi quando si sposta la curva verso destra il problema è l'inflazione ma oggi voi capite che l'inflazione non c'è proprio non c'è e quindi puoi spostare verso destra la curva finché ti pare ok sul punto ci torniamo tra un attimo la banca centrale quindi di ogni paese ha caratteristiche diverse e peculiarità ogni ma ogni paese ha la sua banca centrale particolare la situazione della banca centrale europea perché si chiama l'eurosistema in realtà la banca centrale europea non esiste esiste un sistema di banche centrali nazionali che in federazione creano questa idea della banca centrale europea però meno male che c'è poi vi dirò due tre cose su questo punto però rimaniamo ancora sul teorico e guardiamo questa l'equazione di fisher allora la massa monetaria che vuol dire sostanzialmente tutta la moneta che abbiamo in questo momento in tasca e tutto ciò che possiamo spendere in breve periodo di tempo perché nel conto corrente nei depositi praticamente la massa monetaria è il potenziale di spesa che noi possiamo fare così e spendere quindi oggi pensiamo un momento ciascuno di noi quanto potrebbe spendere in totale nella prossima settimana spende tutto quello che ha chiaramente ha bisogno della moneta per farlo quindi la massa monetaria è pronta per la spesa la massa monetaria moltiplicata per la velocità di circolazione della moneta cosa vuol dire vuol dire che la massa monetaria è chiaro che se io vado dal benzinaio e pago la benzina 50 euro io prendo le mie 50 euro a lui e lui con quei 50 euro fa a sua volta delle cose quindi i miei 50 euro circolano in un anno quindi quella massa monetaria non è importante quant'è ma non solo è importante quanto è la massa ma quante volte circola perché questa fa domanda vuol dire domanda velocità di circolazione della moneta questo è un concetto chiave e poi ci torniamo m per v deve essere uguale ad o output produttivo misurato in termini in qualche modo aggregato moltiplicato per il livello dei prezzi la sinistra a destra devono essere uguali e non possono che essere uguali ok quindi pensiamo un momento se la banca centrale aumenta m cosa può accadere a parità di v o aumenta o o aumenta p o aumentano tutti e due naturalmente ma l'obiettivo della banca centrale qual è quello di aumentare m e far salire o tenete presente che l'auto produttivo non è invenduto è l'auto produttivo venduto quindi il prodotto interno lordo diciamo così del paese il livello dei prezzi può salire di più se la curva verde quella curva di prima è inclinata molto è molto ripida per cui lo stimolo produce solo inflazione e allora la banca centrale non può fare niente perché se lo stimolo produce solo inflazione non ha prodotto vera crescita occupazione evidentemente se però quella curva è un pochino più piatta allora la banca centrale è contenta perché aumentando la moneta crea crea occupazione quello che ha sempre detto draghi le riforme strutturali le riforme strutturali le riforme strutturali l'efficienza e tutto era tutto una 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 come dire una comunicazione per dire guardate che se io avessi una curva più piatta io potrei fare di più per la crescita ma se la curva è ripida io posso fare di meno ora naturalmente ripeto in questo momento l'inflazione non c'è quindi il problema si pone relativamente mentre il vero problema di oggi è quanto circola la moneta cioè se tu dai moneta alla gente che non la spende è moneta sprecata questo è il limite della banca centrale oggi la banca centrale ha bisogno di gente che vada a chiedere gli soldi per fare delle cose perché la banca centrale europea è anche quella americana ha dato soldi è disponibile a dare soldi ma se questi soldi se questa moneta viene presa e non viene utilizzata per domanda fare investimenti fare i consumi così è moneta sprecata rimane lì dormicchia m sale v scende m sale v scende e tutto rimane fermo come prima questo è uno degli elementi chiave di cui dobbiamo parlare le banche centrali usano i tassi di interesse questi sono i tassi di interesse della federal reserve perché usa il tasso di interesse come prima arma perché naturalmente se come ha fatto la banca centrale americana l'ha portato a zero il tasso questo vuol dire che il costo del denaro è zero questo vuol dire che tu puoi usare i denari prendi a prestito a tassi bassissimi quindi anche se tu hai una modesta idea di investimento che rende il tre il tuo processo produttivo rende il tre ti conviene metterlo in atto cioè a livello zero chiunque abbia una cavolo di idea si può finanziare a tasso zero e portare avanti quell'idea certo con un tasso al 1 e mezzo o al 2 e mezzo o al 4 c'è un filtro perché o il processo produttivo rende più del 4 o del 5 oppure nessuno prenderà presto i soldi per finanziare un processo produttivo che ha un rendimento inferiore a quello che è il costo del capitale quindi abbassando i tassi è il primo stimolo positivo in europa lo sapete i tassi sono negativi quindi più comodo di così ci dovrebbe essere un fiorire di iniziative economiche che sono naturalmente fortissime ma il tema naturalmente che l'iniziativa economica è incerta un'altra cosa volevo farvi vedere prima di passare oltre è un concetto importante quando parliamo di banca centrale che stampa moneta di che cosa parliamo perché altrimenti evidentemente noi possiamo fare confusione la banca centrale la banca centrale è una banca e come tutte le banche ha un bilancio il bilancio è costituito da un attivo e un passivo il passivo e l'attivo il passivo sono i debiti della banca centrale l'attivo sono i crediti della banca centrale come tutte le banche è una base voi guardate il bilancio banca centrale come fosse una banca ha al passivo le passività cioè i debiti e un po di capitale capitale proprio e all'attivo ai crediti cosa vuol dire quindi per una banca centrale creare moneta vuol dire che io faccio credito a questi soggetti estero tesoro banche e imprese ho messo new perché questa è una una roba interessante usando che cosa per fare prestiti io ho bisogno di finanziamenti come fa la banca centrale a avere le risorse che gli consentono di dare soldi a questi signori dare soldi alle banche comprare i titoli del tesoro comprare valuta estera se c'è bisogno naturalmente dare i soldi direttamente alle imprese ecco deve la banca centrale centrale è l'unica banca che paga i debiti con i propri debiti cioè sostanzialmente il circolante che la base monetaria sono le passività della banca centrale la banca centrale quando stampa moneta sta facendo debito però è un debito strano perché se noi andiamo in banca centrale riportiamo un foglio da 100 euro e dice guarda sono venuto a riscuotere il mio credito la banca centrale ti dice vuoi due pezzi da 50 vuoi 10 pezzi da 10 perché attenzione la moneta che la scusate la base monetaria si chiama non è moneta la moneta è un concetto più esteso l'abbiamo detto prima la base monetaria cioè il contante che noi abbiamo nelle nostre tasche in questo momento sono crediti nei confronti della banca centrale ed ha valore legale questo è fondamentale ha valore legale cioè nessuno può rifiutarsi di ritenere ad impiuta un'obbligazione se io ti consegno la base monetaria questo è potentissimo perché vuol dire che il credito si estingue pagando l'euro io non posso pretendere una cosa diversa non posso pretendere pezzi di carta oro o sedie per il rimborso della quindi questo è importante quindi quando la banca centrale stampa moneta trascuriamo ora le riserve bancarie che ci porterebbero fuori strada non ci interessano quando la banca centrale per esempio da soldi alle imprese stampa moneta cioè mette in circolazione perché ho messo new perché oggi la bar per esempio la banca centrale americana e la banca centrale europea sono disponibili a comprare i titoli delle imprese i titoli obbligazionali delle imprese cioè danno direttamente i soldi alle imprese questa è una cosa naturalmente molto importante ma bisogna che le imprese li chiedano cioè le imprese devono chiederle altrimenti la banca centrale le darà alle banche le quali banche le daranno alle imprese ma le imprese bisogna che le chiedano e c'è bisogno di credito naturalmente la banca centrale può anche usare il circolante per comprare titoli di stato e questo la banca centrale europea lo può fare solo sul mercato secondario non sul mercato primario cosa vuol dire questo? vuol dire che la banca centrale non può partecipare direttamente cioè non può consegnare direttamente i soldi allo stato bisogna che prima glieli consegni qualcun altro questo qualcun altro prima consegni soldi allo stato famiglie imprese istituzioni compra titoli di stato quindi deve comprarli una volta comprati questi signori li possono rivendere sul mercato alla banca centrale europea quindi alla fine li compri e poi li vendi però certo per comprarli deve avere voglia di comprarli cioè deve avere voglia di farlo e se hai paura se hai non temi il default dello stato questo funziona meno bene di quello che invece negli stati uniti che la fed decide di comprare direttamente i titoli di stato cioè consegna a trump direttamente il quattrino immediato cioè eccolo là questo è il quattrino da noi tocca fare uno sforzo un po' diverso perché? perché il trattato vieta questa attività di acquisto sul mercato primario però il trattato non vieta l'acquisto sul primario di titoli delle imprese mentre vieta l'acquisto sul primario di titoli del tesoro si sono dimenticati di scrivere sta roba qua e quindi la banca centrale in questo momento sta sfruttando questa opportunità cioè dice io se mi portate delle obbligazioni care imprese io ve le compro sul primario diretto voi non dovete cercarvi qualcuno che ve le compra ve le compro io direttamente che naturalmente è una cosa molto potente gli strumenti non convenzionali di politica monetaria sono appunto la creazione di base monetaria la creazione di base monetaria acquistando titoli acquistando titoli del debito pubblico che naturalmente hanno una potente forza di stimolo dell'economia questo è ciò che è stato fatto dopo la crisi del 2009 e in particolare dalla banca centrale europea dopo la crisi del debito europeo nel 2011 quando per fronteggiare il momento difficile la banca centrale europea ha fatto quello che viene chiamato il quantitative easing che vuol dire altro stampo qua a fronte di prestiti che faccio a questi soggetti quindi il bilancio l'attivo delle banche centrali in qualche modo misura quanti soldi hanno dato all'economia e qui vediamo in questo grafico aggiornato a marzo vedete come la federal reserve guardate la linea rossa la federal reserve ha creato tanta moneta tanta base monetaria tutto questo periodo poi aveva smesso 2014 e 2015 ha smesso poi addirittura stava cercando piano piano di tornare alla normalità poi però all'improvviso track sono subito tornati questi sono trilioni di dollari il bilancio è ritornato vedete molto più su di prima la banca centrale americana ha stampato in modo molto vigoroso però guardate anche la banca centrale europea la linea azzurra sta salendo perché anche loro hanno ripreso a fare quantità di easing quindi l'attivo della banca centrale è questo è un quadro di tutte le banche centrali principali banca centrale europea vedete come da qui a marzo tac c'è il coso questo è la fed questa è la private bank of china che è la public bank of china quindi la banca centrale cinese che tutto sommato però i dati sono girati a febbraio non so perché questa è la banca giapponese vedete e questo è il totale se si esclude la banca cinese questa signora lo sapete chi è si chiama Christine Lagarde è una signora che non è partita benissimo ma probabilmente un po' timidina insomma un po' ha fatto qualche piccolo errore parlando soprattutto del fatto che la banca centrale non si preoccupa dei tassi dei titoli di stato dei singoli paesi in realtà si è preoccupata e come perché ha cominciato da quel momento proprio subito dopo averlo detto quindi è chiaro che ha cominciato a comprare come una pazza titoli di stato sul mercato secondario perché è l'unica cosa che può fare e ha pubblicato un bell'articolo sul sole 24 ore che io vi consiglio di leggere perché è un articolo che ci racconta e se poi abbiamo tempo lo possiamo guardare che ci racconta quello che sta facendo la banca centrale europea per far arrivare i soldi alle famiglie e alle imprese e sta facendo veramente di tutto al di là ovviamente di quello che poi viene detto di queste cose cattive e la signora non è sciocca non è per niente impreparata è brava può essere più o meno simpatica ma è brava e infatti guardate la signora che cosa ha fatto una cosa geniale quando Draghi fece il Quantitative Easing si chiamava Purchase Public Sector Purchase Program programma di acquisto dei titoli pubblici che era il Quantitative Easing importante la signora Lagarde invece di aumentare il vecchio Public Sector invece di continuare in quella direzione ha creato un nuovo piano il Pandemic Emergency Purchase Program cioè qualcosa di dedicato alla pandemia che è una cosa interessante perché perché ha cambiato le regole per esempio mentre prima c'erano le regole che limitavano l'acquisto dei titoli pubblici italiani a una percentuale del totale del debito cioè la banca centrale doveva acquistare i titoli di tutti nella stessa proporzione quindi va bene però naturalmente è meno potente no no lei nel Pandemic compra quel che vuole si compra pure i titoli greci ha detto non me ne importa niente compro anche quelli greci compro tutto qualunque cosa ci sia bisogno io compro e appena lo ha detto chiaramente il rischio percepito dal mercato dell'Italia si è ridotto perché c'è la banca centrale che compra Pandemic Emergency quindi qualcosa di dedicato ovviamente è provvisorio il totale del Pandemic Emergency è 750 Billion che non è esattamente poco sono veramente molti soldi ovviamente è provvisorio nel senso che finché ci sarà bisogno lei farà questo Pandemic però è di grande impatto quindi cosa sta facendo la banca centrale europea prende la curva di domanda e la sposta verso destra o meglio ci prova nel senso che fate domanda avete idee avete idee investimenti avete bisogno di soldi per pagare gli stipendi perché questo è lo stato attuale dell'impresa avete bisogno di soldi per pagare gli stipendi venite a prenderli non licenziate la gente perché avete la possibilità di prenderli a tasso zero quasi quindi insomma non è un qualcosa da poco la politica monetaria è qualcosa di veloce agisce in fretta perché agisce in fretta perché non è politico non è politico cosa voglio dire voglio dire che il tema è quelli sono tecnici che fanno quello che ritengono opportuno e soprattutto a livello europeo è l'unico organo che lavora a maggioranza quindi non è all'unanimità ci sono quelli che votano contrario chi vota contrario si attacca e la maggioranza vince e quindi le cose si fanno perché a maggioranza le cose si fanno se aspetti in unanimità come abbiamo visto in altri settori le cose non si fanno tuttavia Draghi quando ci fu la recentemente il 12 settembre 2019 quando lui fece l'ultimo discorso annunciando che visto il rischio di rallentamento avrebbe aumentato un po' il quantità di vising di nuovo Draghi ha nella sua conferenza stampa disse la politica monetaria non basta serve un'unione fiscale e questo naturalmente è il tema cruciale perché serve un'unione fiscale perché come vi ho detto la domanda chi può crearla la domanda la può creare in modo più diretto e più immediato l'unico che può decidere di farle la spesa cioè la spesa pubblica c'è poco da fare mentre se tu dai soldi all'impresa bisogna che l'impresa abbia voglia di prenderli o magari preferiscono licenziare piuttosto che pagare i lavoratori magari non hanno idee di investimento magari stanno smantellando gli impianti pensano di vendere l'imprenditore ovviamente fa quello che ritiene più utile anche se c'è una banca centrale disposta a dargli soldi non è detto che li prenda ma anche noi stessi evidentemente possiamo decidere anche che vista l'incertezza risparmiamo di più e povero Draghi cioè povera Lagarde non riesce a fare quello che vorrebbe la politica fiscale invece è potentissima questa è veramente potentissima perché fa domanda direttamente cioè fa domanda naturalmente fa domanda ma per fare domanda bisogna che abbia i soldi e qui la banca centrale ovviamente è a posto vuoi soldi io te li do non direttamente per carità perché non può indirettamente diciamo mentre in America lo fa veramente di dare i soldi direttamente allo Stato e lo Stato le spende con decisioni di spesa che sono le decine di spesa immediate e molto forti ovviamente politiche dove spendiamo i soldi ragazzi dove spendiamo i soldi è una decisione politica la spesa pubblica io quindi non voglio entrare ora in dove certo si spende cosa fa quindi la politica fiscale prende la curva di domanda e la sposta verso destra adesso quindi noi agiamo dobbiamo agire in questo senso abbiamo bisogno di spostare la domanda verso destra e di salvare la capacità produttiva delle imprese con una brutta metafora possiamo dire che oggi molte imprese hanno bisogno di essere intubate esattamente come le persone purtroppo cioè se non stai attento rischi di che quelle imprese muoiano e se muoiono evidentemente l'occupazione la disoccupazione sale tantissimo e ci mancherà capacità produttiva e se ci manca capacità produttiva noi perdiamo perché vincerà chi ha capacità produttiva e ha difeso le sue imprese questo è il senso grande sfida se in Germania mi difendono le imprese anche se oggi non vendono un cavolo ma rimangono calde e in Italia invece falliscono come mosche è chiaro che poi dopo cosa succede quando c'è domanda nuova e quando c'è domanda nuova e avvantaggiarsi sono i tedeschi evidentemente dico i tedeschi tanto per fare il solito esempio però è anche un esempio vero di quello che stanno facendo o gli americani piuttosto che i cinesi noi la perdiamo la partita perché se noi creiamo domanda ma non difendiamo l'offerta cioè non antubiamo le imprese per farle sopravvivere in questo periodo chiaramente abbiamo un problema di offerta e il problema di offerta è importante naturalmente per l'occupazione e per la crescita quindi abbiamo si deve lavorare su due fronti in questo in questo senso quindi come vi ho detto in teoria la spesa pubblica si genera attraverso le entrate pubbliche quindi è chiaro che per fare spesa pubblica occorrono le entrate pubbliche in questo periodo è chiaro che aumentare le tasse non ha molto senso uno due il flusso di tasse è ridotto perché uno non spende non paga l'IVA eccetera eccetera quindi ciò che arriva nel caso dello Stato è fisiologicamente in una fase di riduzione per forza quando l'economia rallenta le entrate pubbliche rallentano non c'è dubbio oggi non è il momento di alzare le tasse lo faranno poi se volete ne parliamo questo è chiaro che prima o poi sto boomerang torna indietro ma non importa in questo momento non pensiamoci non è il momento di alzare le tasse e soprattutto le entrate pubbliche sono poche quindi di che cosa c'è bisogno del debito pubblico normale perché se io ho le spese e le entrate sono minore delle spese si generano un disavanzo e il disavanzo di cassa vuol dire che tu hai bisogno di quattrini e per avere quattrini esiste un nuovo un solo modo quello di fare debito fare debito non c'è altra soluzione il debito naturalmente può essere acquistato dalla banca centrale europea dalla banca centrale come avviene negli Stati Uniti direttamente oppure si può mettere in condizioni il tesoro dello Stato di trovare il debito necessario per fare questa spesa attenzione questo è un tema chiave il debito il debito è male? non è male il debito il debito è una questione fisiologica tutte le imprese sono indebitate tutte le imprese sono indebitate tutte sono indebitate e allora è male no? perché le imprese si indebitano per crescere cioè la crescita dell'impresa genera quei ricavi che sono sufficienti a rimborsare il debito ma in realtà nessuno vuol rimborsare il debito un'impresa rimane indebitata per sempre perché rimborsa e rinnova rimborsa e rinnova rimborsa e rinnova rimborsa e rinnova è fantastico è così ok? certo l'impresa indebitata è più debole di quella non indebitata ma è anche una che se si indebita riesce a crescere di più quindi c'è naturalmente tutta una teoria che insegna quanto deve essere l'indebitamento dell'impresa eccetera vale questo anche per il debito pubblico assolutamente sì le spese che almeno in teoria le spese che il settore pubblico fa accrescono la produttività del paese o dovrebbero accrescere la produttività del paese questo vuol dire che un debito pubblico con i quali paghi i professori universitari per fare un esempio qualunque è improduttivo o produttivo? io mi auguro che sia produttivo perché io insegno e la gente e i ragazzi imparano molto velocemente diventano molto più bravi di me e mettono su imprese fanno cose spesa pubblica che genera la sua capacità di recupero cioè le tasse del futuro quindi non c'è nulla di male nel debito pubblico il problema è come si usano i quattrini del debito pubblico che è una cosa completamente diversa dal il debito è male sono due cose completamente diverse il debito non è male dipende da cosa ci fai con i soldi che prendi a prestito devi creare la produttività del futuro ecco perché è importante il rapporto tra debito e PIL è importante il rapporto tra debito e PIL perché se sopra c'è il debito che cresce ma sotto hai il PIL che cresce tutto sommato va bene è come un'impresa che col debito aumenta i propri ricavi ma va bene perché i ricavi sono quelli che ti consentono di recuperare il debito non c'è nulla di male nel debito pubblico bisogna solo vedere che cosa ci fai con questo cavolo di debito pubblico questo è il senso certo siccome i capitali sono limitati se tu hai tanto debito pubblico evidentemente si riduce il debito privato cioè in una condizione normale c'è una competizione tra il pubblico che vuole i soldi per fare delle cose e il privato che vorrebbe i soldi per fare altre cose quindi ci deve essere un equilibrio questo è in condizioni normali oggi in condizioni di emergenza abbiamo talmente tante risorse monetarie messe a disposizione che non c'è competizione ce n'è per tutti ce n'è per tutti questo è il senso il debito pubblico può essere detenuto dai cittadini del paese oppure dagli esteri ormai anche il debito pubblico italiano in molta parte è detenuto da cittadini esteri da istituzioni estere questo è un punto di debolezza perché se questi si spaventano vendono i titoli e se vendono i titoli i tassi di interesse tendono ad alzarsi chiudo questo discorso teorico ricordando che esiste un disavanzo strutturale strutturale previsto calcolato ed esiste un disavanzo ciclico il disavanzo ciclico è quello al quale assisteremo in questo periodo è ciclico l'economia rallenta le entrate si riducono e quindi il disavanzo peggiora quindi noi non dobbiamo spaventarci del fatto che il rapporto tra deficit e pil sarà più alto per forza è più alto non c'è dubbio che sarà più alto ma è ciclico ciclico vuol dire che non è strutturale cioè si riassorbe nel momento in cui si riassorbe il disavanzo ciclico la teoria dice ecco che noi quello che abbiamo speso prima tendiamo a recuperarlo dopo ciò che hanno fatto i tedeschi sempre per fare un esempio importante quando hanno salvato le banche sono andati in un disavanzo del 4,5% del pil ma oggi sono in avanzo questo è il senso che purtroppo c'è una piccola distinzione tra noi e loro ma questo è così allora la politica fiscale è più lenta però può essere molto efficace se lungimirante è orientata ad accrescere la produttività belle parole che è naturale allora che cosa accade oggi e perché vi faccio vedere questo signore che vi ricorderete chi è si chiama Mario Monti quando aveva 38 anni il signorino quindi un'età effettivamente ha scritto questa relazione questa commissione di studio istituita dal ministero del tesoro sul sistema finanziario che il titolo italiano 82 38 anni aveva perché è importante questa citazione perché è colpa sua diciamo fra virgolette ovviamente se il sistema finanziario italiano è cambiato ed è diventato di mercato cioè è colpa sua se il tesoro dello stato invece di andare a collocare i titoli del debito pubblico presso la banca centrali e finanziarsi allegramente per qualunque spesa pensate che c'era un conto corrente di tesoreria che era pari al 14% delle spese previste quindi quando lo stato aveva bisogno di soldi cosa faceva aumentava le previsioni di spesa pazzesco assurdo la totale indisciplina ecco colpa sua se ci troviamo i titoli di stato perché disse questo è un sistema vergognoso aveva ragione ma da tecnico naturalmente lui diceva vedrete che quando collocheremo i titoli del tempo pubblico presso le famiglie diventeremo più disciplinati perché ci renderemo conto dell'importanza della spesa infatti è andata proprio così comunque ve lo cito perché questa cosa è all'origine è all'origine di quello che oggi viene detto non si torna indietro cioè non vogliamo una banca centrale che finanzi direttamente le spese pubbliche perché abbiamo già visto che cosa ha combinato questo è il ritornello per cui la Germania non lo vuole non lo vuole nessuno una banca centrale all'americana non la vuole perché? perché abbiamo dimostrato di non di non riuscire a essere disciplinati con una banca centrale che ti dà direttamente i quattrini questo è e allora come vi dicevo l'articolo della Lagarde che abbiamo già citato il pandemic emergency purchase program è quello che si sta cercando di fare l'ho già accennato prima e finiamo con il tema della della più più recente questo è proprio di oggi questo è il sole 24 ore di oggi ieri c'è stato il famoso Eurogruppo eccetera allora quali sono le questioni in ballo le questioni in ballo sono come facciamo a dare i soldi per fare per per pagare i sussidi di disoccupazione per salvare l'occupazione per aiutare le imprese per pagare le famiglie che in questo momento non hanno reddito per pagare gli stipendi ai dipendenti delle aiutare le imprese a pagare gli stipendi ai dipendenti che non sono come si può fare avete avete visto che siccome i soldi non ci sono l'unico modo è prenderli a prestito cioè non c'è un'altra strada perché non è che uno dice taglio da una parte e li metto di là no qui l'unica strada è fare debito concetto ovviamente molto fastidioso ma che è stato fatto in altre occasioni ripeto per salvare le banche lo hanno fatto tutti dall'irlanda dalla germania la francia la spagna l'hanno fatto tutti non l'abbiamo fatto noi ma sarebbe un discorso che ci porta un po' lontano allora perché si parla del mess di questo meccanismo di stabilità a livello europeo quando è nato questo mess questo mess è nato quando ci fu la crisi greca la crisi greca è stata gestita malissimo però si è affermato un principio dirompente che allora nessuno aveva ben focalizzato e cioè che il debito pubblico di un paese riguarda il paese che lo emette quindi quando la grecia ebbe dei problemi di rimborso di rifinanziamento del debito la germania disse fatti loro naturalmente questa cosa sconvolse no lì per lì tutti ebbè giusto giusto è chiaro è giusto e l'hanno fatto i greci il debito il debito greco è un problema dei greci certo tutti d'accordo poi però è quello portoghese è già anche quello della portogallo certo anche quello portogallo è un problema portoghese certo quello irlandese ebbè anche quello irlandese è un problema irlandese quello spagnolo è anche quello spagnolo un problema spagnoli finché siamo arrivati a noi che ne avevamo tonnellate e questo ha generato il disastro perché oddio a forza di dire che ciascun debito è soffatti del paese che l'hai messo arriviamo a quello che ne hai messo più di tutti gli altri in termini percentuali per carità e troviamo un problema gigantesco è nato quindi un meccanismo di stabilità che è nato per salvare i paesi in eccesso di debito cioè quelli che di fatto hanno fatto troppo debito e non sono più in grado di pagare e allora quando è stato invocato l'utilizzo del MES chiaramente c'è stato da parte di Italia ma non solo dice no ma questo è uno strumento nato per un altro motivo qui nessuno di noi è in crisi di debito qui siamo in crisi per un altro motivo siamo in crisi per un altro motivo e quindi è chiaro che l'utilizzo di questo strumento che peraltro prevede una disciplina ferrea cioè una volta che tu vai a chiedere i soldi al MES che te li dà a prestito devi impegnarti ad una riduzione del debito una politica di riduzione del debito feroce un po' quello che è accaduto e peraltro questa politica non è più gestita dai governanti del paese ma sostanzialmente c'è un'accessione di sovranità almeno dal punto di vista strettamente economico e finanziario per cui oddio andare a chiedere i soldi al MES era considerato come andare col famoso cappello in mano che qualcuno usa come immagine ecco già mai noi non vogliamo una cosa del genere in effetti in questa situazione è completamente inadeguato ci sono lì dentro soldi che peraltro ci abbiamo messo noi dentro quindi in qualche modo ci sono perché ce l'abbiamo messi ma insomma e ce li possiamo riprendere ma non certo alle condizioni che sono previste per una crisi di debito perché qui nessuno ha una crisi di debito in questo momento nessuno tutti aumenteremo il debito tutti allo stesso modo certo noi purtroppo partiamo da un debito molto più grande di quello degli altri e questo naturalmente costituisce un problema hanno ridotto le condizioni del MES il MES ci può prestare soldi ce li può prestare solo però se noi li usiamo per fare ospedali e investirli nella sanità insomma c'è un vincolo di destinazione cosa che ovviamente ai politici non piace come potete immaginare e comunque non risolve tutti i problemi che devono risolvere nel senso che non servono per pagare gli stipendi alle imprese eccetera c'è la banca europea degli investimenti che può emettere obbligazioni comprate da terzi compresa la banca centrale europea e con questi soldi fa prestiti alle imprese e ai piani di sviluppo per le imprese ci sono e sempre debito è naturalmente poi c'è questo fondo che viene previsto come integrazione per la cassa integrazione sostanzialmente un fondo comune anche questo fondo deve essere finanziato e l'unico modo per finanziarlo è fare debiti non c'è nessun'altra cosa e quindi arriviamo al nodo di fondo del problema chi è che deve mettere questi debiti ecco che arriviamo agli euro bond o ai corona bond il tema qual è? quello della cattiva interpretazione di questo strumento che probabilmente non si è riuscito a impostare correttamente nessuno sta chiedendo la collettivizzazione la ripartizione del rischio di debito già esistente il rischio di debito già esistente è chiarissimo che è un debito degli italiani e su quello è attualmente chiaro che non c'è dubbio noi non stiamo chiedendo all'Europa di socializzare il debito di mettere in comune il debito pregresso stiamo dicendo il debito nuovo che tutti dovremmo emettere e probabilmente dovremmo emettere tutti in proporzione all'entità del problema che abbiamo e alle tipologie di il debito nuovo lo facciamo emettere con una garanzia sovranazionale si tratterebbe del primo caso appunto di di tresuri americano emesso dalla comunità dall'Unione Europea un debito in euro un debito forte dal punto di vista delle garanzie che sarebbe garantito contestualmente da tutti i paesi c'è uno spiraglio perché si dichiara che questo famoso questo fondo che dovrebbe essere un fondo enorme per finanziare spesa pubblica dell'intera Unione quindi un fondo enorme può essere finanziato con strumenti finanziari innovativi nessuno non sono riusciti a parlare di eurobond c'è però una 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 come dire una traccia teniamo presente che quando la banca centrale europea compra il debito italiano quello greco quello spagnolo eccetera eccetera di fatto abbiamo già un rischio di credito del paese che si è spostato a livello comune perché questo rischio è dentro la pancia della banca centrale europea se salta un paese europeo ragazzi saltano i titoli che sono nella pancia della banca centrale in parte c'è una garanzia solo parziale però c'è quindi di fatto la banca centrale è già avanti già sta facendo questo e con la riduzione dei pesi negli acquisti cioè può acquistare quello che vuole liberamente nell'ambito del pandemic purchase program chiaramente questa cosa è ancora più forte cioè la banca centrale europea sta di fatto agendo come una come dire si assume il rischio quindi dal punto di vista politico la banca qui siamo più avanti evidentemente rispetto a quello che è un concetto di finanziamento di questa enorme di questa enorme situazione direi prima di di chiudere spero che non siate ancora tutti svegli perché sei un'ora e un quarto che parlo un po' troppo prima di chiudere questa questa cosa volevo ricordarvi perché il tema del debito è un tema importante quindi volevo tornare un momento a questo concetto che è un concetto importante c'è un bel grafico che voglio vedere questo è un grafico bellissimo appassionante naturalmente arriviamo a anni nei quali qualcuno di voi aveva tre anni uno ce l'ho presente di questi qua siamo nel 93 siamo nel momento in cui l'euro ancora non c'è che cosa accade in un paese c'è c'è la comunità europea ma non c'è l'euro che cosa appare in questi paesi vedete che i tassi di interesse sono diversi a un certo punto quindi qui ci sono i tassi spagnoli italiani qui ci sono quelli francesi e tedeschi vedete che sono molto diversi 93 94 95 ognuno c'è ancora la sua valuta quindi Italia c'è la lira eccetera però ci avviciniamo all'euro vedete che ci stiamo avvicinando all'euro mano a mano che ci avviciniamo all'euro succede il miracolo tutti i tassi sono uguali e sì perché l'euro nasce con questa forte fortissimo beneficio che noi ne dovevamo poter trarre cioè il nostro debito costava sempre di meno vedete che adesso costa uguale a tutti siamo tutti uguali bellissimo qui era il sogno realizzato questo è proprio il sogno di Draghi prima qui ancora Draghi non c'era ma insomma il sogno di Draghi è questo eccolo qua il mercato dei capitali europeo funziona è unico perché i tassi sono tutti uguali non contano i paesi poi a un certo punto dopo la crisi finanziaria 2008-2009 è partito il problema della crisi del debito la Grecia nasce dalla Grecia poi si parla di PIGS quindi paesi quelli Portogallo Italia Portogallo Orlanda Grecia e Spagna e poi diventano PIGS con due I dove la seconda I come potete immaginare chi è e questo questo è il casino eccolo qua purtroppo questo è il problema che oggi ci troviamo ad affrontare perché se fossimo in una situazione di questo tipo il problema ovviamente non si porrebbe qui purtroppo c'è il problema il nostro debito ce lo dobbiamo pagare noi a tassi di interesse che saranno tanto più alti quanto minore sarà la nostra affidabilità nei confronti degli altri del mercato la nostra capacità di convincere la nostra capacità di convincere che stiamo usando bene i soldi che cresceremo la nostra crescita questi sono gli elementi che oggi dobbiamo affrontare in modo più forte perché perché mettere debito a un tasso molto più alto di quello degli altri è chiaramente in questo periodo un dramma ecco perché l'Italia ma non solo l'Italia spinge per i famosi euro bond cioè quel debito comune che risolverebbe almeno in parte questo problema perché perché l'euro bond sarebbe un finanziamento di emergenza che tutti pagano la stessa lo stesso quindi non ci sarebbero differenze tra paesi è un sogno è la cosa sarebbe la cosa più ragionevole e razionale ma come voi sapete le cose razionali non sempre vengono fatte ok grazie